Il riconoscimento nazionale che oggi abbiamo ricevuto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, la presenza di un parterre di istituzioni, di sponsor privati di primo piano, è un premio che una volta tanto riconosce il valore di una Sicilia diversa, in grado di rappresentare anche a livello nazionale esempio di buona amministrazione, capace di assicurare una qualità della vita eccellente, di garantire una offerta di servizi pubblici collettivi ed individuali di elevato livello. Un'attenzione al rispetto dell'ambiente e al decoro urbano, valida e responsabile. Penso su questo versante, alla percentuale della nostra raccolta differenziata, alla eccellenza dei nostri servizi socioassistenziali, ai tanti interventi realizzati e realizzanti sul versante dell'efficientamento energetico attraverso il crescente ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecologiche, a quelli correlati al miglioramento del decoro urbano. Ecco, sono state premiate non solo le nostre bellezze monumentali e paesaggistiche, ma anche il tripudio di forme e di colori, frutto del sudore e della geniale maestria dei nostri artigiani ceramisti. Per me, per la mia amministrazione, il premio ricevuto rappresenta un momento di soddisfazione, ma anche un punto di ripartenza, uno stimolo a far meglio e soprattutto a far di più. Voglio dedicare questo riconoscimento a chi rappresenta la nostra memoria storica, la memoria storica di una comunità, quella di Santo Stefano di Camastra, e che qualche giorno fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di festeggiare tutti insieme presso i locali della società operaia, a zio Vincenzo Fazio. Voglio dedicare questo premio soprattutto ai miei amati giovani ed in particolare ad uno di essi, ad Arcangelo, che rappresenta il nostro presente e che siamo certi presto tornerà a rappresentare anche il nostro futuro. Arcangelo, non mollare, ti aspettiamo.